A Natale c'è chi sceglie di fare i regali anche al proprio animale, gatto o cane che sia, ma è così Silvia Bartolotti? Sì, è così perché loro oramai fanno parte della famiglia, quindi alle persone piace far partecipare anche ai loro amici a quattro zampe alla festività del Natale e fargli un regalo da mettere sotto l'albero. E qual è l'oggetto più richiesto? Allora, molti giochi sono molto richiesti, anche quelli interattivi che fanno passare il tempo al cane, i cappottini, i maglioncini, perché visto il periodo infernale che stiamo vivendo, stiamo passando, quindi loro mi piace molto addobbare o vestire il proprio animale con una cosa carina e anche avere la doppia utilità di ripararlo dal freddo. In questo momento di confusione molte persone si domandano, sì, se sono aperti i supermercati, ma anche se sono aperti i negozi per gli animali. Sì, noi facciamo parte del genere di prima necessità, quindi siamo sempre aperti. Volevo ricordare che noi offriamo un servizio a domicilio che è sempre attivo, quindi possono chiamare, è completamente gratuito, oltre al servizio di toletta che è attivo. Grazie a tutti e buon Natale!